Questa mattina le donne della coalizione Fare Città hanno dato vita a un incontro pubblico dal titolo Riprendiamoci la Città e presentato i punti salienti del loro programma fra cultura, ambiente, lavoro e persone. Ho assunto un impegno nel momento in cui ho accettato di candidarmi alla guida della città di Fano di dare un ruolo importante alla componente femminile. Io a cominciare dalla rappresentanza all'interno dell'esecutivo perché ritengo che la città abbia bisogno anche di una sensibilità nuova e le donne in questo possono effettivamente portare un valore aggiunto che negli anni passato troppo spesso è stata in qualche modo non tenuta nelle giuste considerazioni ed è marginata, vorrei proprio usare questo termine forte. Quindi sono fiducioso e penso anche che i cittadini apprezzeranno molto questa sensibilità del candidato sindaco Massimo Seri ma soprattutto della coalizione Fare Città. Oggi in conferenza stampa andiamo a presentare il documento sul tema di genere che hanno prodotto le donne riunendosi comunque in tutte queste settimane con un lavoro diciamo intenso e interessante di condivisione sui temi. Siamo unite a presentare questo documento e presentiamo oggi anche un ciclo di Cineforum che inizierà il 29 aprile, la seconda il 6 maggio e la terza il 9 maggio. Il 9 maggio, l'ultima data, il film sarà seguito da un aperitivo al Politeama con tutte le donne di coalizione che avranno modo di parlare di sé, di dire chi sono e quello che vogliono fare per la città di Fano insieme a tutte le donne della città di Fano che sono invitate a venire e a parlare alla città. Le donne delle liste che oggi vedrete sono donne diverse appunto, con storie diverse, intelligenze diverse che vengono da mondi professionali differenti, donne che hanno messo insieme le loro professionalità e hanno costruito insieme questo documento che ha un valore di orizzonte, che va oltre. Siamo molto contenti di essere qui tutte insieme, c'è stato e c'è qualcosa di nuovo che caratterizza l'essere donne nella città di Fano. Questa iniziativa è nata per la preparazione dell'8 marzo ed è continuata fino a questo momento della conferenza stampa perché vuol portare parole nuove nella politica parole di donne, ma non per agire una politica per le donne, ma per una città più vivibile per tutte e per tutti. E questo è il nostro intento, su questo si impegneremo, impareremo a conoscersi fra diverse esperienze fra diversi modi di fare, diverse età, diversi mondi, ma speriamo di riuscire a creare un gruppo che getta dei semi importanti per l'avvenire di questa città.